ragazzi ho già preparato il tavolo da gioco stasera giochiamo forte dieci minuti ma che gioco è passatempo è semplice si gioca con un mazzo da 40 carte ad esempio oggi ci giochiamo 10 minuti del nostro tempo a turno peschiamo una carta ogni carta contiene una prova e un tempo limite in cui svolgerla in questo caso tre minuti bisogna scommettere un tempo inferiore a quello indicato ad esempio due e quindi in due minuti tentare di superare la prova se vinci la prova il tempo è scommesso scala un minuto dai tuoi 10 minuti iniziali e passi un minuto a giocatore successivo va bene poi giocando capisci ok iniziamo dai pesca una carta fai sorridere quattro persone in quattro minuti scommetto due minuti pronta 1 2 3 via dai ce l'ho fatta prova superata in due minuti ok quindi passi due minuti e vai a 8 minuti e tu prendi suoi minuti e vai a 12 ok tocca a me chiudi gli occhi ed elenca tutti gli indumenti tipo e colore di almeno due giocatori in due minuti allora scommetto un minuto pronto 1 2 3 via ok fatto no non ce l'ho fatta in un minuto ma nei due minuti massimi della prova allora il tuo contenzio e quello del giocatore successivo rimangono invariati sono pronto salta in cinque modi diversi tre minuti scommetto due minuti pronto 1 2 3 via stop tempo scaduto no non ce l'ho fatta nemmeno in tre minuti quindi prova non superata il giocatore dopo di te ti passa tre minuti e li aggiunge i tuoi ok tocca a me scala un minuto al tuo tempo e passa tutti gli altri giocatori un minuto che si sommerà al tempo personale e jolly evviva tocca a me mi mancano solo due minuti speriamo in una carta da quattro vai di un frutto un ortaggio per ogni lettera dell'alfabeto in ordine dalla a alla z h esclusa cinque minuti beh ovviamente scommetto tre minuti pronta 1 2 3 via zucca ho vinto allora ora facciamo i conti quanto tempo vi ho vinto dunque hai vinto 13 minuti miei e 17 suoi per un totale di 30 minuti che puoi decidere di passare con noi come e quando vuoi con noi con noi